Iscritta a parlare la senatrice Faggi per nove minuti. Qual è che è stato disinfettato? Per cui posso togliere la mascherina? Grazie. Grazie. Buonasera, Presidente. Buonasera, colleghi. Chi mi ha preceduto ha già parlato ampiamente del contenuto di questo provvedimento, toccando articoli e facendo riferimento per l'ennesima volta alla loro discrepanza rispetto alla necessità che veramente ha l'Italia intera, gli italiani interi. Ma in particolare mi ha colpito un'affermazione del collega Laus, che ha detto che questa epidemia ha, testualmente, perturbato gli equilibri della società in tutti i suoi segmenti e ha praticamente inciso molto su ogni parte sociale. Ha anche parlato dicendo che c'è comunque una visione di questa maggioranza. A me spiace doverlo ripetere, però se questa maggioranza avesse una visione, cioè secondo me ha la stessa visione e la stessa delicatezza di partecipazione e nell'ascolto dei colleghi senatori di minoranza che rappresentano pur sempre una fetta anche abbastanza copiosa di italiani. E io contavo più di 25-30 senatori con le spalle anche rivolte molto garbatamente mentre parlano i colleghi. che ci sono, se avete questa delicatezza, questa visione, questa delicatezza nei confronti degli italiani che voi con i vostri decreti pensate di poter, tra virgolette, accontentare, dovreste prima di tutto dimostrarlo in quest'Aula. dovreste essere tutti presenti, ascoltare le rimostranze di quello che vi è stato detto in questi tre ore passa di intervento, da tutti coloro che puntualmente vi hanno fatto presente quali sono articoli che sono degli spizzichi, dei mozzichi rispetto alle reali esigenze. E invece la stessa, io ripeto, e lo dico anche a chi magari mi sta seguendo, la stessa delicatezza che questa maggioranza ha con noi, la con voi italiani. Per cui questa è la mia premessa. E mi sembra una premessa importante a cui aggiungo altre notizie che stamani leggevo mentre ero in treno. ed erano notizie freschissime, notizie del Ministro Costa e notizie del Ministro Gualtieri e che si rifanno comunque al contenuto e alla situazione che attualmente stiamo vivendo. Il Ministro Costa, visto che è su tutti i giornali il disastro idrogeologico che sta capitando in più regioni, fa riferimento al fatto che è molto ottimista, molto ottimista perché i fondi ci sono. Ci sono sette miliardi, sono in cassa. Però c'è un problema piccolo, una cosa da niente. C'è le semplificazioni che sicuramente romperà tutti i lacci, lacciuoli di natura amministrativa e burocratica. Il problema è che questo decreto però è di agosto e prima che sia tecnicamente usufruibile c'è una ricaduta materiale, ci sono tempi di operatività, però lui è ottimista che prima o poi possiamo usarlo. Questa cosa mi ha lasciato un po' lì perché ho detto intanto che cadono le case, i ponti e tutto quanto si poteva fare qualche cosa, si poteva cominciare veramente a snellire la burocrazia cominciando da forse quella che è la riforma più importante su cui poi fa da volano e vertono tutte le altre situazioni che è il codice degli appalti. Ma è lì fermo a fare muffa alla ottava commissione. E pazienza. Naturalmente gli fa eco il ministro Gualtieri, sempre intorno alle 10.35. Ci sono le cartelle esattoriali. E l'hanno detto, stava scadendo. Però non c'è problema. Abbiamo parlato con l'Agenzia delle Entrate e le notificheranno, le manderanno gradualmente. E questa è una notizia che rassicura perché lui è fiducioso. Ed è anche fiducioso sul Recovery Fund. Penso che possa essere operativo all'inizio del 2021. Penso, sono fiducioso, che l'Italia sia pronta col suo piano. Le ricerche però dovrebbe cercare di collegare quello che invece ha detto il suo premier, Conte, che ha detto se non siamo pronti col piano andiamo a casa. Però lui è fiducioso, meno fiducioso è Conte, diciamo un pochino più realista perché sarebbe veramente difficile. Però c'era un'altra piccola notizia che diceva che se non sarà proprio nel 2021 ci spostiamo un momentino in là e arriviamo al 2022. Per cui l'importante oggi, davanti a quello che ci è stato detto, ha più riprese e non erano lamentele, tutta gente di partiti diversi che ha elencato puntualmente quali sono le cose che non andavano bene. D'altronde basta vederci, siamo qui con l'ennesima fiducia. Se fosse un provvedimento così sostanzioso, così pieno, ci sarebbero forse l'aula piena, sarebbero tutti a fare degli interventi. Forse, tra virgolette, c'è anche un sentimento che non è stato richiamato. La vergogna, perché un conto è andare di fretta, spicciarsi, muovere, semplificare, sburocratizzare. Un conto invece è arrivare di corsa e dover ricorrere alla fiducia. Con un provvedimento che, guardato nel suo, analizzato bene, ha poco a che fare con l'emergenza. Perché ci sono delle cose che sono, diciamo, delle piccole situazioni che vanno a tamponare e che tra tre mesi si ripresenteranno. Ma quando andremo a chiedere i soldi, andrete a chiedere i soldi, vi chiederanno le riforme. E le riforme non possono essere dieci righe con gli schemi prestampati. Le riforme hanno bisogno di contenuti e i contenuti devono avere un valore talmente pesante da giustificare l'uscita di oltre 100 miliardi, oltre a quello che siamo già indebitati, e ulteriori 200 miliardi che dovrebbero servire a rimettere in piedi questo Paese. Prova ne sia che il provvedimento si chiamerà resilienza. Il Piano Nazionale di resilienza, di rinnovazione, ma soprattutto di resilienza, perché è questo che chiediamo agli italiani. Resistete, resistete, perché intanto noi qui, in qualche maniera, fiduciosi e ottimisti, cercheremo di mettere a posto qualche cosa. La semplificazione significa anche coraggio e non avere paura. Semplificare non significa essere superficiali, significa mettere veramente nelle condizioni le imprese, tutti i segmenti commerciali, artigiani, tutto, non sto qui ad indicarle, dalla sanità, il commercio, l'industria, ai trasporti, di avere veramente delle norme che possono essere applicate subito, perché poi una volta che abbiamo finito dovranno fare un corso per cercare di capire quali all'interno di questi plichi qui devono applicare, perché è tutto un copia e incolla. Se fosse però così semplice, non semplice, se fosse così preoccupante, io mi farei una domanda, perché è così preoccupante, snellire, abbiamo così paura che magari tra le pieghe possa annidarsi la malavita e tutto, allora faccio questa domanda, la rivolgo alla Presidente e la rivolgo a tutti voi. Se corrisponde alla verità, se corrisponde alla verità, che noi abbiamo così paura di semplificare, partendo dal codice degli appalti, che è una materia che mi sta a molto cuore, però se è vero che qua dentro, qui, in una procedura semplificata, veloce, senza lacci e laccioli, si sia dato in tre diversi contratti a una ditta di Cerignola, la Cerichem Biofarm, che oltre ad avere anche dei problemi con il fisco, agenzia delle entrate, tre contratti. Uno il 5 marzo, per 270 tanniche da 5 litri di gel disinfettante, 50 flacconi da 500 ml con dosatore. Un secondo accordo un mese dopo, per 12 mila euro, per 25 mila litri di gel disinfettante. Poi c'è stato un altro accordo per 21 mila euro, per 5 mila confezioni di salviettine, 50 spray disinfettanti, 170 visiere di quelle protettive. Poi però la guardia di finanza ha sequestrato 4 mila facconi dall'azienda. Devo però chiederle di arrivare alla contesta. Perché non era in possesso dell'autorizzazione della Comunità Europea, né quella del Ministro Speranza, non poteva nemmeno essere messa in commercio. Allora, due pesi e due misure. Le chiedo se è vero, se corrisponde, penso che sia vero, perché se viene riportata una notizia così precisa, se non fosse vera sarebbe veramente disastroso per chi l'ha riportata. Però mi domando perché due pesi e due misure si comprano così, senza guardare le cose, lasciando andare per di più qui all'interno, direttamente con l'esecutivo e poi quando è ora di semplificare una norma che dà la possibilità a quelli che fanno fatica a mettere insieme la cena con il mezzogiorno, ci si rifà alla paura che i cittadini possano delinquere. Grazie.